Ciao a tutti, sono Massimo del centro crioplane di Trediglio. Con questo video vi voglio informare in merito al Green Pass. Come sapete, dal 6 agosto sarà obbligatorio avere il Green Pass per accedere a tantissimi locali, soprattutto al coperto, tra cui le palestre. Noi, essendo classificati come palestre, rientriamo tra i luoghi che necessitano di avere il Green Pass. Per avere il Green Pass bisogna avere almeno una dose di vaccino, effettuata 15 giorni prima della richiesta del Green Pass, un test molecolare o test antigenico nelle 48 ore precedenti, la guarigione da Covid-19 in un periodo non maggiore a 6 mesi precedenti l'ingresso in palestra e, come ho già detto prima, un'età maggiore di 12 anni. Ci sono anche dei soggetti che, leggendo appunto dalla circolare del Ministero, che potete trovare anche sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge numero 105, che sono esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata per l'appunto secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Quindi, in poche parole, potete accedere alla palestra con il Green Pass che viene lasciato con guarigione da Covid, con somministrazione di almeno una dose di vaccino o con test molecolare o antigenico 48 ore precedenti all'ingresso in palestra oppure, in alternativa, se avete l'esenzione, dovete portare il certificato medico. Vi ricordiamo altresì che abbiamo l'opportunità, per chi non avesse il Green Pass, di effettuare sedute di personal trainer o di MS all'esterno. Abbiamo un'area qua a 50 metri attrezzata per fare attività fisica e abbiamo già l'accordo con il Comune di Treviglio per l'utilizzo di quel suolo e per quanto riguarda la crioterapia localizzata, abbiamo sempre attivo il nostro servizio di CrioSmart, quindi crioterapia localizzata a domicilio. Per maggiori informazioni, chiamateci o contattateci al numero di cellulare anche tramite WhatsApp 334-6164-224. Ci vediamo presto in palestra in assoluta sicurezza. Buona giornata a tutti!